I lavoratori stranieri rappresentano ormai da anni una risorsa importante per l'agricoltura. In Toscana siamo al 58%, in Italia considerate che su 1.200.000 lavoratori, 350.000 sono lavoratori non italiani. Quindi rappresentano veramente un aspetto fondamentale per il nostro settore agricolo. Il loro ricordiretti è quello di sempre, cioè valorizzare e mettere in trasparenza le nostre produzioni. L'abbiamo fatto con la sicurezza alimentare, l'abbiamo fatto con l'origine dei prodotti, con l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine. In questo caso l'abbiamo fatto con la legge sul capolarato, l'abbiamo fatto con la legge sulle pratiche sleali. Dalla combinazione di queste ultime due leggi noi crediamo e cerchiamo di lavorare per mettere in trasparenza definitiva anche la filiera del lavoro, che sarà una volta raggiunta, un valore aggiunto per le nostre imprese e riesce a mitigare questi fenomeni.